Non va a mettere mostri sul terreno in modo che io non possa attaccare E quindi la partita si stalla Questo è il sonno Della partita si va a stallare Anche qui tu potresti dirmi Ok ma se l'avversario fa così Magari tu potresti pensare l'avversario fa così Per farti finire il deck Lui ha 29 carte E passando 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 e passando io mi andrò a trovare in deck crash Prima di lui Quindi tu potresti dirmi Ma che succede se ci sono queste situazioni Può succedere perché no Ho tutto il mio campo bloccato Magari mi sono bloccato con mystic Ma nell'avversario pensa di fare il furbo Non mettendo mostri in modo che io non possa attaccare E non possa neanche magari mettere altre carte Non possa magari mettere cauldron Oppure wave motion Perché non posso andarmi a togliere da solo Le carte magia e trappola Che cosa si fa in questi casi? Semplicemente si aspetta l'altra mystic mine Perché mystic mine può essere settata Vedi l'avversario stava esattamente procedendo In questo modo Pensava di fare il genio Pensava di fare la genialata Vedi occupandosi tutte le zone Aspettando Facendomi scartare delle carte Insomma addormentando la partita Ecco qua Mystic mine che succede? Vado a settare la mystic mine Perché ricorda le field Vanno a eliminare altre field Nel momento in cui vengono inserite Questa è l'unica carta spell Che si compone Che risponde a questa feature Ok? Quindi vado a settarla In modo da non essere più sotto mystic mine E vedi l'avversario subito come si sveglia Come rialza le antenne Vado ad utilizzare Nashiwari surprise Ma a questo punto Noi abbiamo Dark bribe Attacco L'avversario mi utilizza Concioline proibite Io riutilizzo Dark bribe Per impedire Il di mezzo Dell'attacco di forbidden droplet Ovviamente devi saper utilizzare Questo mazzo Anche con intelligenza Lo diciamo sempre Questo è chiaro Mettiamo le mani avanti Questo mazzo è Si auto win Come vedi Ha tutte le carte in mano Che gli servono Ma non Cioè Saremmo bugiardi A dire che chiaramente Non ci deve essere La mediazione del giocatore Io sarei Ti prendere in giro Dicendoti Il mazzo fa tutto da solo No Come nessun Lamborghini Fa tutto da solo Come nessun arma Nel vero senso Della parola ballistica Fa tutto da sola Senza un sapiente Utilizzo umano Come nessun Nessuna strumentazione In generale Di tecnica Fa nulla Con l'utilizzo umano Così vale Anche per i mazzi Di Yu-Gi-Oh Mi raccomando Ricordiamo Quest'importante Questione E adesso Andiamo a vedere Con un'altra partita Allora Abbiamo Mystic Ma in mano Molte può succedere Ovviamente Oh Siamo contro Il Tiara Acrimalamenti Finalmente Che parte fortissimo Tra l'altro Parte fortissimo Mentre Le due boss Kaleido Hart Hit Kallos E addirittura Fallenoba O Falbaz Che può utilizzare Che può utilizzare Che è una Super polimerizzazione Con i piedi Quindi Ci ha cominciato Nella maniera Più perfetta Con tra l'altro Una super polimerizzazione Oltre al danno La beffa Anche quindi Questa è una situazione Puramente Da meta Per quanto Se vogliamo Vedere le etichette Del meta Se vogliamo Rimanere intrappolati Negli artichi Che cosa va a succedere Oh Dark Ruler No more Tranquillamente Qui proprio La ciliegina Sulla torta Potevamo anche mettere L'impermanenza Farcela abeitare Oppure farci abeitare Duality E poi mettere Mystic Mine Comunque abbiamo anche Questa carta Che è fortissima Perché l'avversario Non può rispondergli Quindi neghiamo gli effetti Mystic Mine Tranquillamente Ecco fatto cauldron Con duality Vado a prendere Anche skuld Questa è la situazione Perfetta In cui Questa carta È forte sempre Ma qui È letteralmente Spietata Perché L'avversario Non ha carte Nella mano Quindi se tu Gli fai pescare Sempre merda Puntini puntini Ok Fatta Cioè la sua partita È letteralmente finita O trova un modo Di rispondere Con i mostri Che ha sul terreno Ma non può Ne attaccare Ne utilizzare effetti E al cimitero Non mi sembra Che abbia tanto Oppure Questa situazione È letteralmente Tu hai vinto Di azione Hai vinto Letteralmente Quindi utilizzo Di cauldron La persona Comincia a pescare Quello che voglio Inizia a mettere Unicorn La persona Giustamente È l'unica mossa Che può fare Comincia ad inserire Mostri sul terreno Link Per andare a mandare Mostri al cimitero Per eventualmente Poterne utilizzare Gli effetti Al cimitero Ma non può farlo Ed io inizio a Farlo fuori Con cauldron E io comincio Ad infliggere Punti con cauldron Qui non me l'ho utilizzato Non lo so Perché cauldron Ricorda che Ogni turno Acquisisci un segnalino E tu ogni turno A seconda dei segnalini Che ci sono Puoi o Curarti di 500 Per ogni segnalino Quindi se ne hai 5 Di curiti di 2500 Recovery 2500 LP Oppure infliggi 300 All'avversario Per ogni segnalino La cosa bella È che tu arrivi ad un punto In cui ne hai 8 10 Arrivi a infliggere 3000 Anche all'avversario Vedi Arrivi ad un certo punto Che lo prendi per sfidimento Con Mystic Pine Lo blocchi al muro E con cauldron Gli riempi il costato Di mazzate E poi Finché Non vai Sostanzialmente A vincere Eravamo contro Un Tierra Grimalamenti Che ci ha utilizzato Dark Che ci aveva Access Code Abbiamo visto Nightmare Unicorn Quindi Ecco una partita Molto Sibillina Un'ultima partita Per concludere Anche qui Avevamo Mystic Mine Siamo contro Eroi Elementale Quindi è anche un mazzo Che hai preso E L'avversario va a prendere Onesto Neos Nella mano Quindi si va a preparare Sostanzialmente il campo Con una back row E cruci crociato Vado a mettere Mystic Mine Pod of duality A questo punto Il mazzo L'avrai cominciato Da intendere No? Come vedi C'è sempre Abbiamo sempre Oracolo della Da Skuld Molto molto forte Ancora la pod of duality Che mi fa prendere Vedi quanto è facile In fin dei conti Prendere in mano Le carte che ci servono Anche se bisogna aspettare Qualche momento Per andare ad avere in mano Magari Cauldron Oppure le carte Burn Eccetera 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 Non fa niente Vedi l'avversario Ci ha messo sul terreno Tantissime carte L'avversario Ci ha messo addirittura DPE Nulla Non succede nulla Addirittura prova A utilizzarlo Mandandolo al cimitero Ma non può utilizzare L'effetto Perché comunque Controlla più mostri Di noi A questo punto La nostra mano Si va a rimpinguare In questo momento Io mi sto attento A quale carta Mettere sul terreno Perché mi andrei a bloccare No? Se vado a mettere Troppe back Siamo nella stessa Situazione di prima Anche lì Possiamo anche bloccarci Qui perché comunque Potremmo mettere Mystic Ma in la seconda coperta E quindi sbloccare Il movimento sul terreno Allora comunque Stare attenti Vedi? End phase La partita si va a stallare Succederà che la partita Si andrà a stallare Ma quello insomma È solo meglio Cioè guarda quanto Veramente Con una carta Tu fermi tutto La partita non può far nulla Cioè potrebbe far tutto Potrebbe mettere Spolverino Turbini Le carte per bloccare Mystic Ma non ci sono Ecco perché non viene bannata Ma con le giuste carte Con i giusti Ornamenti Come Primo fra tutti Skuld Non succede nulla Non succede nulla Tu hai tutto il tempo Per pescare le carte Che ti servono E per andare a vincere In questo momento Io stavo facendo caricare Il cannone Perché ricorda Lui ogni turno Prende un segnalino Poi puoi spaccarlo Per andare ad infliggere 1000 all'avversario Per ogni segnalino Che hai Quindi che fai In situazioni particolari Come queste Lo fai arrivare a 8 segnalini Poi lo spacchi Infliggo 8000 All'avversario Vedi l'avversario non fa nulla Tacitamente Accetta la sconfitta Quindi End phase Arriviamo Ok mio turno Lui è arrivato a 8 Utilizzo l'effetto Lo spacco Infliggo 8000 Via Semplicemente Finito Questo mazzo È veramente Molto molto forte Lo so Che potresti pensare Sì ma Mina forse La bannano Forse non la bannano Al massimo La potrebbero Semilimitare Perché è una carta Troppo equilibrante È una carta Che va ad equilibrare Il gioco E soprattutto È una carta Che si può bloccare Non è come i mazzi FTK Come magari la combo drop off Come magari la combo con rongo bongo Dove veramente ci sono poche carte per bloccare Cioè un mostro come rongo miniad Crea situazioni problematiche per la Konami Ricorda che la Konami va a bannare una carta Quando ci sono poche carte per contrastarla E soprattutto quando crea stagnazione E noi utilizziamo le carte forti Vediamo dell'opportunità E andiamo come due lanti forti Andiamo a prendere le carte forti E a vincere Non aver paura Non perdere mai grandissime opportunità Per giocare carte e mazzi forti